e vi saluta anche l'amico che è il protetario dell'apparato in cui io sto modulando, avanti Alfredo ok ok perfetto, perfetto Damiano, arrivi bene Damiano, provanti io direi che arrivi molto molto bene perché sfiori i 30 db oltre 9 quindi fortissimo, 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 fortissimo ciao Damiano, ti saluto, grazie per il QSO, buona serata, 73, fatti di ascoltare avanti Gianni e Telcambi, Italia 3, Milano, Roma, Venezia, Italia e Velanda 8, Delta e Copapa, Alfredo Cambia ok Alfredo, saluto Damiano, ciao Damiano, all'ascoltarci allora, quanto prima possibile speriamo che le condizioni ce lo permettano bene, avvii fortissimo, DJ e Damiano, siamo arrivati con 9 più 20 anche il freddo mi fa 9 più 15, la modulazione del freddo è decisamente migliore comunque io sto uscendo solo con 100 Watt, 7300 mi trova sono dinamico, ramificatore e qualizzatore, compressione, un po' costruito e spero di arrivare sicuramente allora, ciao Damiano, buone cose, riuscire a dirci grazie a me, grazie a me, grazie a me, grazie a te, ascolto il tuo finale per quel che mi riguarda e voglio darci un cuore di T io sono entrato giusto per salutarvi a te, a te, grazie sì, questo è l'ebellissimo Gianni, Italia 3, Milano, Roma, Venezia riprende Italia 08, Delta Ecopap stiamo utilizzando la stessa radio anch'io questa sera sto andando con il 7300 con il suo microfono originale sto pilotando un amplificatore autocostruito che monta una valvola metallo ceramica dell'Eymac ma sto andando con una trentina di latte eh, non sto andando però questo qua spinge parecchio, quell'ampificatore spinge parecchio e l'antenna classico di polo filare a V invertita a te, cambia Gianni, Italia 3, Milano, Roma, Venezia Italia 08, Delta Ecopapa, cambia sì, molto bene indietro il micro, radio Vittoria, riprende